Dicono che al mondo per ogni uomo ci sono sette donne. Ecco, Andrea ce le ha tutte dentro casa. Dal regista di Notte Prima degli Esami e Maschi Contro Femmine, pazza di me. Dal 24 gennaio al cinema. Perché io? Perché? Se c'è una cosa che odio al mondo sono i proverbi. Quello che odio più di tutti è c'è sempre una prima volta. Sì, è vero, una prima volta c'è sempre, ma di solito non è un granché, perlomeno nel mio caso. Sono molto più importanti le ultime volte. Purtroppo nessuno ti avverte mai che quella che stai vivendo è l'ultima volta. Di solito non te ne accorgi nemmeno. Papà. Eppure io, quella notte di tanti anni fa, Andrea, avevo capito che era l'ultima volta che vedevo mio padre. E sapevo anche che, prima di andarsene, mi avrebbe detto qualcosa di fondamentale. una frase saggia, profonda e significativa, che mi avrebbe accompagnato per tutto il resto della mia vita. Piccolo mio, da oggi sono cazzi tuoi. Solo dopo molti anni ho capito il perché delle parole di mio padre. Ciao. Un altro proverbio dice, infatti, che al mondo, per ogni uomo, ci sono sette donne. Ecco, le mie sette, purtroppo, ce le ho tutte dentro casa. Dove sono i miei tappi, le ho partite? Ma non sai prendere la tua macchina? Lo sai benissimo che la mia DIA non la presta nessuno. Pronto? Buongiorno. Sono la dottoressa Morelli. La più alta in grado è mia madre Vittoria, che fa l'amministratore di 11 condomini. Non è che il mondo gira attorno ai suoi impegni. Dica sì, si è capito. Pazze di me.